Si intensificano in tutto l'alto Tirreno Cosentino i controlli sulle strade e la circolazione da parte della Polizia Stradale di Scalea. In questi giorni di controeso, infatti, controlli assidui sono stati disposti per tutti i veicoli, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali la Statale 18, che attraversa diversi comuni anche per prevenire manovre sconsiderate nel traffico intenso, causa di innumerevoli sinistri stradali avvenuti nell'ultimo mese. I servizi predisposti sono finalizzati a svolgere, come di consueto, da un lato l'attività di prevenzione, attraverso la presenza visibile e costante degli equipaggi che si occupano di viabilità e tutela dei viaggiatori. Dall'altro, controlli e verifiche, sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico, riguardo ad esempio l'impiego scorretto del telefonino, l'utilizzo della cintura di sicurezza o il casco per i motociclisti. Monitoraggio realizzato anche con l'uso in maniera continuativa dello street control, strumento che consente di verificare, in tempo reale, se un veicolo è assicurato o se ha effettuato la prevista revisione periodica.